buongiorno e benvenuti a questa nuova recensione oggi escavatore cingolato terex tc 225 lc modello prodotto da nzg in scala 1 50 ed uscito nel 2008 questa qua è la scatola di cartone in cui è riportata questa foto della macchina vera e sullo sfondo invece c'è un disegno sempre del dell'escavatore però visto lateralmente sulla parte stretta della scatola invece è riportata la sigla del modello e la scritta escavatore cingolato sulle testate invece c'è la scritta terex con il loro logo e i loro dati aziendali la scatola è una normalissima scatola di cartone al cui interno c'è il polistirolo in cui è riposto il modello per essere ben protetto detto questo passiamo allora a vedere il tc 225 eccolo qua allora l'escavatore terex tc 225 lc modello come dicevo prodotto da nzg in scala 1 50 nel 2008 e prodotto in cina quindi a livello di dettagli è abbastanza ben messo partendo dal braccio possiamo vedere le linee idrauliche che partono dal corpo macchina andandosi poi ad attaccare alla base del boomerang sul retro del braccio sono riprodotte in fusione e pitturate di grigio metallizzato dopodiché in prossimità dei pistoni sono in plastica i classici tubicini neri in plastica proseguono poi fino sull'avambraccio anche qua le parti quelle in metallo sono realizzate in fusione mentre quelle flessibili sono nella classica plastica nera come prima la benna è discretamente ben fatta qui sopra tra l'attacco del braccio e la stella della benna c'è un bel po di spazio si vede che hanno tentato di riprodurre una specie di attacco rapido però era meglio in questo caso aver fatto un attacco diretto avambraccio benna sul fondo della benna sono riportati i vari rinforzi anti usura denti piuttosto pronunciati passando alla cabina come si può vedere è discretamente ben fatta abbiamo specchietto in plastica maniglione invece per salire metallo frontalmente abbiamo due fanali posti sopra qui abbiamo una letta parasole terci cristallo in plastica riproduzione delle guarnizioni intorno ai vetri dipinte di nero all'interno posto guida con le leve per i cingoli a destra si può vedere il computer di bordo e poi su entrambi i lati del sedile i joystick per i movimenti qua dietro abbiamo la riproduzione di una griglia penso per tipo per il raffreddamento del motore qua è dipinta invece una maniglia per l'apertura di un vano al retro abbiamo zavorra con scritta terex sui lati sono riportati dei catarin frangenti non so bene perché quelli arancioni ti può simulare delle frecce però la macchina non è dotata sopra abbiamo un tubo di scarico in plastica sull'altro lato altra riproduzione dipinta di una maniglia per l'apertura di un vano qua abbiamo serbatoio dell'olio idraulico e del gasolio sono dipinti tappi di grigio e questo qua di nero su questo lato abbiamo una ringhiera per poter salire dipinta di rosso ed è in metallo specchietto retrovisore in plastica anche qua un'altra maniglia di apertura dipinta di nero più i vari scalini di accesso al vano motore sotto qua invece c'è la riproduzione di un fanale passando al carro è discretamente ben fatto abbiamo cingoli metallo a tre costole è presente il tendo di cingolo piuttosto rigida la molla questo non è secondo me una buona cosa perché va a sollecitare molto la tenuta delle varie maglie dei cingoli ovviamente nzg fornisce dei pattini di ricambio qualora si dovessero rompere quindi anche loro sono a conoscenza di questo eventuale problema che ci può essere con i loro cingoli fondo del modello come si può notare il boomerang è piuttosto lungo hanno riprodotto la versione diciamo con la massima lunghezza disponibile anche sulla macchina vera a livello di misure del boomerang mentre l'avambraccio è quello diciamo standard più comune su questo modello confrontato con altri di pari categoria di peso la dimensione maggiore del boomerang salta abbastanza subito velocemente all'occhio detto questo come avete potuto vedere il modello secondo me è abbastanza ben fatto sono stati riprodotti molti dettagli l'unica cosa secondo me da parte di nzg da rivedere sono i vari tubicini in plastica neri sui pistoni che come avete anche voi potuto notare durante il video tendono a saltar via perché sono giusto attaccati al pistone con una goccia di colla e dopo un po nel tempo tende a staccarsi ecco secondo me questa è una delle note negative di questo modello insieme come ho detto prima alla troppa rigidità del tendicingolo che può andare a rischiare di far spezzare i pattini andando ad aprirsi per il resto come voto gli darei un 8 anche considerato il prezzo di quando uscì io questo lo pagai 50 euro e come rapporto qualità prezzo secondo me li valeva a tutti oltre diventa secondo me un po sproporzionato il paragone tra i due fattori quindi se siete interessati ad acquistarlo io vi potrei considerare come prezzo un 50 60 euro non di più e che sia completo di scatola ovviamente se lo avete anche voi fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate penso e spero di averlo descritto al meglio in tutte le sue parti se avete domande commentate pure qua sotto in descrizione vi lascio i link ai miei canali social facebook e instagram potete seguirmi anche lì iscrivetevi al canale youtube per essere sempre aggiornati sui nuovi video qui in alto a destra vi lascio il link al collegamento alla playlist con altre mie recensioni e ci rivediamo alla prossima ciao